che proviamo insieme a spezzare quindi viene dal Vangelo di Marco al capitolo 10 e ha a che fare con un personaggio che è entrato anche negli nari del colto evangelico quindi i nostri cari chissà dopo ci proporranno un antico canto il cui titolo è il cieco quanti ciechi conoscete come cantici? Ce n'è uno su, il cieco di Gerico quindi Marco capitolo 10 leggiamo dal verso 46 al verso 52 e vorrei che ponesse la vostra attenzione sul primo verso dove succede qualcosa di straordinario a livello redattivo sembra che ci manca qualcosa, io ve lo faccio notare subito leggiamo dal verso 46 giunsero così a Gerico vuol dire che sono arrivati nella città di Gerico ma il testo poi dice è come egli usciva da Gerico con i suoi discipoli e con una grande folla un certo figlio di Timeo Bartimeo il cieco sedeva lungo la strada mendicando ora avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno cominciò a gridare e a dire Gesù figlio di Davide abbi pietà di me molti lo sgridavano affinché tacesse ma egli gridava ancora più forte figlio di Davide abbi pietà di me e Gesù fermato si ordinò che lo si chiamasse chiamarono dunque il cieco dicendogli fatti animo alzati egli ti chiama allora egli gettando via il suo vestito si alzò e venne a Gesù e Gesù rivolgendogli la parola disse che vuoi che io ti faccia il cieco gli disse Rabboni che io recuperi la vista e Gesù gli disse va la tua fede ti ha guarito e in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via vi dicevo di porre attenzione sul primo verso dove noi leggiamo giunsero così a Gerico Marco ci sta raccontando il viaggio di Gesù dalla Galilea alla città di Gerusalemme dove andrà a celebrare la Pasqua dove ci sarà l'ultima cena dove comincerà la passione ma dove soprattutto ci sarà la morte per crocifissione la resurrezione di Gesù il Cristo il figlio di Dio prima di arrivare a Gerusalemme oltrepassata la valle del Giordano hanno lungo il cammino la città di Gerico e Marco ci dice questo giunsero a Gerico e non ci racconta quello che è accaduto a Gerico ci dice sono arrivati è come quando uno è in viaggio oggi con il suo cellulare manda un messaggino a qualcuno sono arrivati tutto a posto tutto ok stai tranquillo e Marco ci dice sono arrivati a Gerico però noi che leggiamo la storia noi che stiamo leggendo il viaggio noi che siamo impiccioni curiosi chiediamo a Marco vabbè e che è successo che hanno fatto che hanno visto cosa hanno raccontato chi ha guarito che cosa ha fatto Gesù a Gerico Marco non ce lo dice ci dice subito dopo quando stava uscendo quando se ne stanno andando da Gerico non sappiamo se sono stati un giorno due giorni tre giorni una settimana non ci è dato sapere Marco sceglie di raccontarci una storia che è avvenuta sulla strada di Gerico non quando Gesù è arrivato ma quando Gesù se ne stava andando e questo già ci deve dire qualcosa perché tante volte noi ci aspettiamo che Gesù arrivi invece accade che lui se ne va e siamo noi chiamati a fare qualche cosa il più delle volte noi siamo seduti e diciamo signore vieni da me signore vieni che io ti aspetto signore io non mi muoverò da questo posto fino a quando tu non sarai venuto da me e Marco allora ci fa sapere che lungo la strada che Gesù sta percorrendo per uscire da Gerico e la mia curiosità mi dice ma quando è entrato questa persona non c'era io penso che c'era credo che Bartimeo abbia sentito Gesù arrivare a Gerico perché così come adesso quando esce è seguito da una folla c'è un interesse si percepisce il passaggio di Gesù chissà forse quando Gesù è arrivato Bartimeo non lo conosceva così come lo conosce quando Gesù sta uscendo c'è una conoscenza che ci viene da quello che pensiamo ma poi c'è la conoscenza che ci viene da quello che gli altri raccontano da chi viene e dice lo sai ero in una tale condizione ho conosciuto l'Evangelo ho conosciuto l'amore di Dio ho affidato la mia vita a Gesù Cristo e le cose sono cambiate e allora quando tu ascolti queste storie ti comincia a domandare ma è possibile c'è ancora possibilità che la mia vita che la vita degli altri possa subire una trasformazione queste sono le prime domande ma chi era Bartimeo prima particolarità Marco ci dà il nome e se voi vi leggete a mena dito tutti e quattro i Vangeli non troverete tantissimi miracolati di cui è riferito il nome proviamo ad andare a memoria di chi vi ricorderete vi ricorderete di una Maria Maddalena dove lo stesso Marco l'ultimo di questo capitolo dice dalla quale Gesù aveva cacciato sette demoni poi quale è ammalato quello della piscina di Bethesda conoscete il nome quello che viene calato dal tetto conoscete il nome del fanciullo lunatico conoscete il nome pensateci Zaccheo ma Zaccheo non è stato guarito Nicodemo ma Nicodemo non è stato guarito me ne sovviene qualcun altro allora già questo ci dice che se di questo cieco ci è dato il nome questo cieco è un cieco particolare questo cieco è un cieco che ci vuole dire qualcosa di importante perché dove c'è un nome c'è una personalità c'è una individualità c'è un'attenzione particolare chi è Bartimeo Marco non ce lo dice Marco ci dice un figlio di Timeo Bartimeo il cieco ma se noi siamo precisi se noi siamo puntigliosi andiamo a tradurre Bartimeo vuol dire figlio di Timeo allora volete vedere che questo non è il nome o se è il nome viene ripetuto due volte figlio di Timeo Bartimeo è come quando noi troviamo Abba padre abbiamo il termine con la traduzione abbiamo Golgota luogo del teschio ci riferiscono i Vangeli quindi utilizzano il termine locale e ci danno il significato Bartimeo Bar non pensate al caffè al cappuccino perché nel Vangelo di Marco questo bar si unirà ad un altro termine Bar Barabba Bar Abba figlio del padre Bartimeo figlio di Timeo ma Timeo cosa vuol dire Timeo noi dobbiamo andare a prendere i significati di questi termini perché il loro significato ci apre degli orizzonti di comprensione la parola Timeo vuol dire onore vuol dire una persona onorabile quindi Bartimeo è figlio onorabile figlio per bene e questo termine ha lasciato sopporre ad uno studioso della scrittura che ha il nome di Agostino di Pona se preferite il vescovo di Pona o per gli amici più cattolici Sant'Agostino Sant'Agostino nel commentare questo testo dice il significato del nome lascia sopporre che questo cieco che non era cieco dalla nascita perché altrove noi troviamo segnalato che era un cieco dalla nascita di questo non è detto che è cieco dalla nascita e quando Gesù gli chiede che cosa vuoi che io ti faccio qual è la richiesta di Bartimeo che io recuperi chi è che recupera chi ce l'aveva e l'aveva persa per cui lui aveva goduto della vista ma ora l'aveva persa e il significato del nome fa supporre ad Agostino che probabilmente questa era una persona famosa nel senso di onorabile era una persona importante di Gerico che il padre doveva essere una persona importante perciò è indicato il figlio di Timeo perché gli scrittori del tempo cercavano di comunicare di mettere enfasi di far sapere ai lettori che una persona importante di una famiglia conosciuta al tempo era stata raggiunta dall'opera di Cristo e qual era quest'opera il recuperare la vista ma questo cieco se era di famiglia onorabile e quindi di famiglia benestante di famiglia importante Marco ci dice sempre al primo verso che stava lungo la strada mendicando allora noi proviamo a fantasticare su questa supposizione e ipotizziamo che questo cieco prima di diventare cieco era una persona che stava bene che non gli mancava niente era il figlio di Timeo apparteneva a una famiglia importante ma nel momento in cui ha perso la vista qualcosa è successo è andato in disgrazia o la famiglia ha speso tutte le proprie risorse per cercare di recuperare la vista di questo figlio o avendo perso la vista non ha potuto continuare le attività del padre c'è stato chi lo ha dilapidato dei suoi beni noi sappiamo che questo non solo ha perso la vista ma non ha risorse economiche ed è costretto a mendicare noi troviamo questa storia innestata nel Vangelo di Marco tra la domanda dei figli di Zebedeo che chiedono al Signore di essere messi uno a sinistra e l'altro a destra quindi vogliono un posto onorabile nel Regno dei Cieli e poi troviamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme dove Gesù ad essere glorificato vi accorgete siamo tra il desiderio di due discepoli di sedere sul trono al fianco di Cristo e ci troviamo con Gesù che viene osannato quando entra a Gerusalemme tra queste due situazioni c'è in mezzo la storia di un cieco che era ricco che era onorabile che era possidente ma che era diventato povero non assomiglio un po' alla storia di colui che sedeva nel cielo che era ricco della gloria del Padre e che lasciò ogni cosa per venire ad abitare in mezzo a noi facendosi povero umile e come noi ma Bartimeo sta a rappresentare probabilmente un'altra condizione la condizione di chi fino a quando le cose vanno bene non ha alcun bisogno di Cristo anzi neanche lo nomina quando poi invece le situazioni della vita ti spogliano ti spogliano di tutto e viene meno la vista la vista della conoscenza la vista del discernimento tra il bene e il male la vista che ti fa comprendere chi è realmente tuo amico e chi è tuo nemico la vista che ti fa capire qual è la strada da percorrere qual è la strada da abbandonare però accadono tante cose strane a volte anche assurde nella nostra vita che noi perdiamo la vista ed è successo a tutti quanti noi ma nel momento in cui lungo la nostra strada è passato Gesù il figlio di Dio nel momento in cui abbiamo gridato a lui tutti quanti noi possiamo testimoniare che quando abbiamo conosciuto Cristo abbiamo recuperato la vista quanti di noi fanno proprie le parole del paralitico degli atti degli apostoli che dicono prima ero cieco ma ora ci vedo prima ero zoppo ma adesso cammino prima ero abbandonato ma adesso sono in compagnia prima ero orfano ma adesso ho una famiglia prima ero povero e adesso sono più povero di prima nessuno si aspetti ricchezze in cambio anzi la storia di questo cieco ci dice che nel momento in cui Gesù sta lasciando Gerico lui è cieco ma non è stupido lui non ci vede ma ci sente e ci sente bene non sappiamo i giorni che sono trascorsi da quando Gesù è passato per entrare a quando Gesù adesso sta passando per uscire ma ci accorgiamo che dell'ingresso non sappiamo niente ma quando Gesù sta per uscire e quindi sta per abbandonare Gerico come chi sta per perdere il treno come chi sta in ritardo al cecchino all'aeroporto il cieco comincia a correre e non corre dietro a Gesù ma corre con la voce corre con il cuore sa che se Gesù lascia Gerico dopo che lui ha sentito ha percepito quello che Gesù ha fatto e che a noi non ci viene raccontato Bartimeo il cieco di Gerico comincia a gridare quando Gesù passa sulla tua strada non puoi essere condizionato da quello che dicono gli altri da quello che pensano gli altri la tua vita la conosci tu lo sappiamo tutti quanti che il problema è di chi ce l'ha e Bartimeo conosceva il suo problema che lo aveva spogliato delle sue ricchezze che lo costringeva a mendicare che lo costringeva a star seduto lungo una strada e Bartimeo comincia a gridare e nel momento in cui Bartimeo comincia a gridare Marco ci dice molti lo sgridavano c'era chi gridava più di lui e gli diceva stai zitto infastidisci il maestro quante volte nel tuo problema nella tua difficoltà nel tuo dramma cerchi di sfogarti cerchi di rompere il cielo cerchi di far qualcosa nella speranza nella fiducia che dal cielo una mano arrivi e tante volte la mano la cerchi anche a destra e a sinistra attorno a te è la cosa più triste e quando si grida nel bisogno che arriva qualcuno e dice ma no stai zitto resta in silenzio non ti è dato non devi chiamare il Signore altro a cui da fare ma egli gridava ancora più forte fratello sorello quando gridi a Cristo grida forte perché quando gridi è perché hai capito Signore non te ne puoi andare prima di risolvere il mio problema non puoi passare prima di fermarti qui vicino a me e le grida erano tali e tanto forti che Gesù si fermò chiamatelo fatti animo quelli che prima cercavano di zittirlo fatti animo stai tranquillo stai sereno alzati egli ti chiama allora io vorrei che noi ci mettessimo nei panni di un cieco che non vede Gesù che non sa di preciso dove sta sappiamo che sta passando dovremmo provare a fare questo con un esercizio tenendo tutti quanti gli occhi chiusi e facendo passare un gruppo di persone davanti a noi poi qualcuno viene e ti dice basta gridare ti ha sentito alzati cioè voi come ciechi cosa direste a quelli che vengono e ti dicono alzati vieni tu che ci vedi hai visto che non ci vedo tu che c'hai gli occhi hai visto che i miei non vedono nulla che alzati e vieni alzati prendimi accompagnami fa qualcosa non rimanere indifferente ma Bartimeo va oltre le sue capacità Bartimeo va oltre la sua vista allora egli gettando via il suo vestito ricordate questo era un mendicante era un povero non si preoccupa di conservare il mantello chissà che cosa aveva addosso Marco dice addirittura getta via il suo vestito sarà corso in mutande c'era qualcosa che gli era di impedimento ma lui se lo toglie ecco perché vi dicevo prima che chi è povero se vuol trovare Cristo deve pure essere capace di diventare più povero se qualcuno ti ruba il mantello cosa disse Gesù tu dagli anche la tunica devi essere capace di privarti anche del poco che hai se realmente vuoi seguire Cristo e la vedova al tempio alla cassetta delle offerte che cosa fece? lasciò quel poco ed unico che aveva in questo Vangelo Marco parlerà di lui nel momento dell'arresto di Gesù e parlerà di un giovane che rimarrà nudo per non essere arrestato quando Gesù veniva arrestato e Gesù ha di fronte a sé un cieco un uomo è diventato cieco senza vestito perché Marco ci ha detto che si è tolto il suo vestito e Gesù gli dice cosa vuoi che io ti faccia? allora io sfiderei un cieco nudo davanti a Gesù davanti a qualcuno che può far qualcosa e può scegliere non è il genio della lampada non ci sono tre desideri c'è una domanda e una risposta cosa vuoi? un guardaroba sono nudo ho bisogno di vestire un frigorifero sono mendicante non mangio ho bisogno di alimenti sono lungo la strada una casa tante volte ci lasciamo trasportare dalle cose materiali e perdiamo di vista perdonate il gioco di parole essendo ciechi spirituali le cose essenziali cosa vuoi che io ti faccia? quel rabboni quel maestro sa tanto di io immagino il cieco e dice rabboni per la serie che domande fai? c'è bisogno di chiedermelo eppure Gesù ci chiede quando gridiamo a Lui cosa vuoi che io ti faccia? perché a volte pensiamo di gridare per delle cose spirituali ma poi quando ci troviamo davanti a Lui cominciamo a entrare nelle faccende materiali o ci perdiamo in altre discussioni rabboni io voglio recuperare la vista io ho bisogno di vedere ho bisogno di vedere come mi sono ridotto ho bisogno di vedere dove sono finite le proprietà di mio padre Timeo ho bisogno di vedere la faccia di quelli che mi hanno truffato e mi hanno portato via tutto quello che avevo ho bisogno di vedere la faccia di quelli che tutti i giorni passavano e mi lasciavano una monetina e non mi hanno mai abbandonato voglio guardare la faccia di chi la mattina mi accompagnava e la sera mi veniva a prendere ho bisogno di vedere posso pure rimanere nudo ma voglio vedere quanto è importante vedere e questo miracolo ha un grande significato sulla vista spirituale chiamare Dio incontrare Cristo ha come scopo principale aprire i nostri occhi e quando conosciamo la grazia vi dicevo prima una delle espressioni che usiamo è proprio questa ero cieco ma ora vedo quando Paolo incontra per la prima volta Cristo sulla via di Damasco diventa cieco chi pensa di vedere ma in realtà non vede e quando va il profeta che cosa accade cadono delle scaglie dagli occhi di Paolo Signore aiutaci a vedere ma il messaggio è più preciso aiutaci a recuperare la vista questo potrebbe dirci questa sera che ci vedevamo e forse non ce ne siamo accorti siamo diventati ciechi sopra i nostri occhi è calato il velo dell'incredulità sui nostri occhi si è calato il velo dell'amarezza sui nostri occhi si è calato il velo della delusione sui nostri occhi c'è il velo del dolore della sofferenza sono tante le ragioni per cui si chiudono gli occhi perché quando i momenti sono talmente difficili uno dice voglio morire cosa corrisponde a voler morire chiudere gli occhi e non vedere più niente ma se abbiamo incrociato Cristo se ancora oggi Cristo incrocia la nostra strada allora ciechi nudi poveri miserabili mendicanti non possiamo restare fermi grida chiama chiama perché gli ascolta quelli che lo chiamano nel giorno della distretta ricordate il test invocami ed io te ne tirerò fuori invocami e uno dice ma perché lo devo chiamare se Dio conosce ogni cosa però quando sei malato dottore a che ora devo venire quando vuoi andare a lavorare spero che ci sia ancora qualcuno che voglia andare a lavorare si chiama posso venire hai bisogno di qualcuno chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto c'è bisogno di azione la fede è azione chi ha sentito parlare di Gesù chi ha sentito le cose che Gesù ha fatto nella vita degli altri non si può fidare vedere lo voglio vedere sopra la mia pelle c'è bisogno che me lo dimostri questo è il perché dell'evangelismo continuo a produrre sempre credenti perché la fede non è la storia di un altro la fede è qualcosa che si deve realizzare nella nostra vita non mi serve sapere che Bartimeo è stato guarito non mi serve sapere che tu sei stato miracolato sì sono contento per te ma a me a me che me ne viene se Dio opera nella tua vita e la mia vita non cambia c'è qualcosa che non torna allora se sono cieco signore aiutami a recuperare la vista se mi sono addormentato svegliami se mi sono assopito signore una doccia d'acqua fredda e Gesù gli disse va va vattene la tua fede ti ha guarito e molti vorrebbero questo vorrebbero andare da Gesù prendere quello di cui hanno bisogno e poi andarsene ricordate i dieci lebrosi guariti quanti ne tornarono in quell'istante recuperò la vista ma Bartimeo si mise a seguire Gesù per la via e allora la storia di Bartimeo che recupera la vista è la storia del credente che decide di essere discepolo ovunque tu andrai lì sarò anch'io ricordate le parole di Eliseo con Elia ovunque tu vai io vengo con te dove tu sei ci sarò anch'io Bartimeo recupera la vista nel momento in cui apre gli occhi nel momento in cui la sua vista non solo torna ad essere naturale ma è anche una vista spirituale vede il Signore e capisce che tutto il resto può essere dimenticato e abbandonato che la cosa migliore che possa fare è seguire Gesù e lo comincia a seguire non sappiamo quello che ne è stato dopo di Bartimeo ma questa storia a questo punto ci dice che Bartimeo segue Gesù e dopo se leggete il capitolo 11 Gesù entra a Gerusalemme con la folla che lo seguiva e Bartimeo era in quella folla quando cominciamo a camminare con il Signore entreremo nella Gerusalemme con Lui nella Gerusalemme celeste a Gerico sono caduti i muri a Gerico si sono aperti gli occhi a Gerico un uomo ha detto io cammino dietro di te Signore e dopo è entrato a Gerusalemme che il Signore ci aiuti a tenere gli occhi aperti su di Lui perché si avvicina il giorno in cui la Chiesa del Signore entrerà nella Gerusalemme celeste Dio vi benedica vi benedica a Gerusalemme a Gerusalemme e la Gerusalemme a Gerusalemme che la Chiesa